Come ti chiami? Samuele Mario Di Tucci, il trattamento l'ho iniziato ad aprile, prima avevo i denti tutti staccati e adesso si vede che sono più chiusi, sono molto più chiusi e ho un sorriso, di quelli stili film. La mia famiglia mi ha consigliato, più che altro mia mamma e mio papà, mi hanno consigliato di mettere quello invisibile perché faceva meno male rispetto a quello d'acciaio, perché quell'acciaio fa molto dolore, fa più dolore quindi mi dà più fastidio e queste sono comodissime invece, perché so che mi sistemano una cosa che è meglio sistemarla più che farla continuare. Questa dentista è la migliore per i miei gusti. Lo consiglierei a molte persone che hanno bisogno di curarsi i denti, sempre se hanno l'ora da curarsi i denti. Grazie. Prego. Ciao. Arrivederci. La secretà. Nadea. whatever. Grazie.